Questa parabola ci sprona a non nascondere la nostra fede e la nostra appartenenza a Cristo, a non seppelire la parola del Vangelo, ma a farla circolare nella nostra vita, nelle relazioni, nelle situazioni concrete, come forza che mette in crisi, che purifica, che rinnova. Così, pure il perdono che il Signore ci dona, specialmente nel sacramento della riconciliazione, non teniamolo chiuso per noi stessi, ma lasciamo che sprigioni la sua forza, che faccia cadere i muri che il nostro egoismo ha innalzato, che ci faccia fare il primo passo nei rapporti bloccati, riprendere il dialogo dove non c'è più comunicazione e così via. È stata la parabola dei talenti a guidare le riflessioni di Papa Francesco, oggi all'Angelus, soffermandosi sui beni del Padre Celeste e non sulle qualità individuali, il Pontefice ha riconosciuto la paura del rischio che serpeggia nel cuore dell'uomo, bloccando la creatività e la fecondità dell'amore, ma ha invitato i cristiani a non scoraggiarsi, contagiando il mondo con la fede, incoraggiando gli individui con la speranza, amando il prossimo. Qualunque ambiente, ha insistito, può diventare luogo dove far fruttificare i talenti. Non ci sono situazioni o luoghi preclusi alla presenza e alla testimonianza cristiana. Dopo la preghiera mariana, Papa Bergoglio ha ricordato la giornata mondiale delle vittime della strada, auspicando l'impegno costante nella prevenzione degli incidenti stradali, come pure un comportamento prudente e rispettoso delle norme da parte degli automobilisti. Grazie. Grazie. Grazie.